Posso servire la cena, signorino? Cos'hai preparato? Bietole e omelette alla francese. Mamma mia, che noia questa cena. Beh, spiacente di annoiarvi, ma io sono stata assunta come domestica e non come comica. Di certo non perché ti manca l'umorismo. Senti, perché non mi fai delle uova fritte con le patate e due fettine di prosciutto? Le bietole vanno bene per le capre. Questa non è una locanda dove uno può mangiare tutto quello che gli salta in testa? Dai, toglimi questo caprizio, mia bella mora. Ah sì? Fosse l'unico, ma sembra che voi pretendiate la luna. Sono stufa dei vostri capricci. Ti hanno mai detto che sei ancora più bella quando perdi le staffe? Beh, devo essere stupenda allora, perché comincia a ribollirmi il sangue. In questo momento sei bella da fare una pazzia. Basta con i complimenti, signorino. Che se mi scappa uno sberlone, vi voglio vedere dopo. Niente, più sei scorbutica, più mi piaci. Donna Cayetana sta organizzando un ballo. Che dici? Vorresti essere la mia dama? Guardate che non sta bene prendersi gioco di una disgraziata come me. Ma io dico sul serio. Per cominciare, con voi non andrei neanche all'angolo della strada. E per finire al ballo ci andrò, sì. Ma come domestica? Beh, è un vero peccato. Con un abito da sera saresti la più bella di tutta la festa. Ma perché sei sempre così arrabbiata? Non sarà che ti manca un po' d'amore? Beh. Hmm?